Il mio periodo torinese fu durante il servizio militare come assistente di sanità all'ospedale militare di Torino. Fu un periodo straordinario in tutti i sensi, perché durante il corso giocavo con un vero scheletro e poi tutto il tempo libero lo occupavo passeggiando per Torino, visitando musei, gallerie, andando al concerto, se ben ricordo, al teatro dell'opera restaurato da Mollino. Andavo al Museo Egizio, che all'epoca era un museo straordinario, come solo vidi in Oriente in India, ancora con l'incanto di un tempo che fu. Ma quello che fu il tesoro che io frequentai molte volte fu il Museo d'Arte Moderna di Torino, più esattamente la Galleria d'Arte Moderna di Torino detta Agam. In quel museo questo tesoro non a caso era via della vela, o via vela, anzi esattamente, quindi io lo immaginavo come un bastimento pieno d'arte moderna e c'erano Balla, Severini, Martini, Modigliani, Morandi, De Chirico e Savigno, di cui ricordo ancora questo quadro molto particolare che rappresentava il fiume. Era un fiume in piena e questo museo io lo considerai come il museo più ricco, più vario di tutto il tesoro dell'arte moderna. Eravamo agli inizi degli anni Sessanta e quindi c'erano appunto Morandi, Depisis, Casorati, Fontana, Manzoni, Castellani, Capogrossi, ma contemporaneamente scoprì tutte le gallerie, in particolare con Obi Pistoi, con la Galleria Notizie che stava un piano interno, non ricordo dove, e Luciano pur essendo un militare mi faceva vedere i suoi capolavori, fra cui Picabia o Picabia, che ritrovai anche al museo, vedi le prime Carlaccardi, Paolini, Mertz, e quindi in questo periodo fu soprattutto una passeggiata di arricchimento, una prospettiva straordinariamente stimolante e essendo all'ospedale militare di Torino, come dicevo, ogni tanto dal reparto Euro rilasciavano i malati immaginari e quindi io mi proponevo volontario pur di viaggiare, facevo il giro d'Italia riaccompagnandoli a casa. Erano tutte storie avventurose e molto grottesche e in quelle occasioni approfittavo per transitare andando a trovare mia sorella Tuglia, mia madre, fino a quando essendo capofamiglia, essendo morto mio padre, mi rilasciarono. Però appunto questa parentesi di tempo fu talmente stimolante, talmente come un apprendistato, una consapevolezza che fomentò e fece crescere questo mio desiderio per l'arte. Quindi, viva l'arte!